Sto per parlarvi di un brand francese di insolite variopinta bellezza. Semplicemente seduti su un divano e con una muglietta intrisa dei profumi di questo marchio, possiamo divenire veri nomadi olfattivi alla scoperta di paesaggi sempre nuovi ed emozionanti. Signore e signori, questa è la top 12 nasodani dei profumi di Unuino Mud. Enjoy! Bentrovate, bentrovati a tutti! Signore e signori, oggi vi parlo di questo marchio pazzesco! Metto subito in chiaro che sono stato contattato io da questo marchio che aveva visto alcuni miei video e mi avevano chiesto di sentire il loro discovery kit e mi avevano detto eh se ti piace anche qualche fragranza di questo discovery kit noi te la possiamo dare e così ne ho scelte due che poi le vedremo che rispettivamente sono la posizione 2 e la posizione 1. Poi la vedremo e ve le faccio vedere dopo. Io sostanzialmente parlo solo delle cose che mi piacciono e che ritengo fighe. Tutto ciò che non mi piace è out per me, non ne parlo. Preciso che ci sono stati tanti marchi ultimamente che mi hanno contattato, tantissimi brand, per i quali sicuramente usciranno nuove review. Avendomi inviato questi decant, io sono letteralmente impazzito per circa 5-6 profumi, però me ne hanno fatti scegliere solo due. Comunque sono felicissimo che me li abbiano inviati e così potrò farveli vedere. Vi faccio vedere bene il packaging com'è. La collezione si struttura in un viaggio olfattivo che avviene all'interno di zone particolari del pianeta, per le quali sono state fatte proprio delle sottocollezioni all'interno di questa grande collezione in Nui Nomad. Ad esempio abbiamo una notte a Bali, una notte in Oman, una notte a Montauk, che molti magari non sapranno neanche cos'è Montauk. Comunque sia, ve ne parlerò pian piano durante il video. Bellissima tutto il loro racconto proprio anche estetico, la grafica, il packaging, lo studio dei font e poi dentro appunto il discovery kit, che comunque io vi suggerisco eventualmente di acquistare, potrete trovare appunto queste 10 fragranze delle quali vi parlo, più altre due, queste sono fragranze in più. Suggerisco sempre di sentire i profumi. Tuttavia, qui in questa top 12, dalla posizione numero 6, 7 in poi, secondo me sono un po' tutti dei blind buy. In un luogo fisico, se li volete acquistare e sentire, so che c'è una profumeria qua ad esempio a Modena, Brame, il negozio in Viataglio, qui in Centro Storico, che tra penso uno o due mesi mi dicevano che probabilmente terranno questo brand, quindi potrete andarli a sentire dal vivo. Tuttavia, se volete fare dei blind buy e anche sostenere il canale, io vi metto il link affiliato qua sotto, dove se vi piace il modo in cui ve li racconto, se non avete una profumeria di nicchia vicino casa, potete fare l'acquisto direttamente da questo link. Cosa ancora più importante? C'è un coupon che vi dà diritto ad avere per ogni acquisto, avrete la possibilità di avere un 25 ml gratuito. Naturalmente questo coupon per adesso è riservato agli abbonati premium e base. Tra alcune settimane sarà pubblico, però io vi suggerirei di iscrivervi al canale. Non abbonatevi se proprio non volete, però insomma, visto che l'abbonamento è 2,99 oppure 6,99, base premium, abbonatevi. Non lasciate questa zona esoterica fighissima del canale vuota di abbonamenti. In realtà, vabbè, siete già tanti, comunque qualche abbonato in più non mi dà fastidio. Partiamo al volo, dunque. Per ogni fragranza io farò un breve racconto, ve la racconto più o meno. Aggiungerò come solito la mia fantastica scheda nasodani, dove vi dirò di tutto e di più. Number 12. Numero 12. Bohemian Soul. Uno spirito bohemian. Anzitutto guardate cos'è incluso anche all'interno di questo discovery. Ci sono tutte queste schedine che raccontano profumo per profumo, vi raccontano tutto. La storia, qual è l'ispirazione e le note. Quindi è un'idea veramente molto carina e servono anche da mouillette. Ci ho messo un po' a tirar fuori sto video perché, vi giuro, è stato difficilissimo metterli in fila. Perché andavo lì, facevo la classifica e poi dopo due minuti dicevo, no, vabbè, ma questo non può essere la 8 e questa non può essere la 9 e questa non può essere la 3. Cioè, ricambiavo tutto. Ci ho messo almeno 5-6 volte, 5-6 risnasate totali per darvi questa top 12. Che comunque io metto sempre le mani avanti. È una visione personale di quelle che sono le fragranze migliori e peggiori. Ciò vuol dire che magari la top 12 potrebbe essere un numero 1 per qualcuno e invece la top 1 che io ho messo al numero 1 può essere una brutta fragranza per altre persone. Quindi ecco, non offendetevi se vedete questa classificazione. Troppo banale, un po' troppo scontato. È uno di quei profumi white mask più note talcate. Mi sa troppo troppo di pulito, mi sa quasi di bagnoschiuma. Tra tutte è quella meno naturale. Questa fa parte della collezione Inui Una notte a Montauk. Montauk, per chi non lo sapesse, è una strana e rara penisola nella zona di New York. Un luogo nel quale è stato creato anche una zona militare misto a ville di artisti, ville lussuosissime. Misto a luogo dove vengono alla nascita gli squali bianchi. Perciò occhio se andate a Montauk perché non vorrei essere responsabile del fatto che vi stacchi una gamba o uno squalo. Anno 2018, durata 6 ore circa, un sillage abbastanza deboluccio, una proiezione di 1-2 metri, unisex, primaverile estivo, non suggerisco il blind buy, creatività gli ho dato qui un 5, cioè sinceramente veramente non mi sentivo di dare di più. Carattere è un pulito misto, ha effettivamente una sensazione di libertà. Blind buy appunto no, non suggerisco il blind buy. Andiamo al numero 11. Sun bleached. Significa sbiancato dal sole. Questo deriva dalla collezione Inui a Oman. Come vedete lì c'è proprio lo skyline di Muscat, dipende dai punti di vista come lo si vuole chiamare, nel sultanato proprio dell'Oman. Questa non so, non mi ha molto stupito anche questa. Sì, bella, bellina, pulitina, pettinata, carina, ma io mi sarei aspettato con questo nome qualcosa di un po' più creativo e anche qualcosa di un po' più orientale. Mi ha lasciato un po' neutro. È al confine quasi proprio con un cosmetico, ma che dire cosmetico, quasi proprio con un bagno schiuma. Non mi ha colpito assolutamente. Anno 2021, durata, io ho visto circa 4-5 ore. Non mi ha sembrato durare di più. Sillage moderato, proiezione 1-2 metri, unisex, primavera-estate. Creatività, io ho dato qui un 6 su 10, un po' più creativo del precedente, però più o meno la linea di pensiero è quella. Carattere, un pulito fresco, blind buy, nine. Questo si chiama Nothing but Sea and Sky. Devo dire che quando vedi il cartoncino con questo concept ho detto no, ma che bella cosa, che idea divertente, simpatica, innovativa, perché fa parte sempre della notte a Montauk, questa appunto penisola vicino New York, una spiaggia innevata, quindi un luogo marino però visto in modo invernale ed è una cosa particolarmente nuova sul concetto proprio di viaggio olfattivo, di nomadismo, questi luoghi anche scomodi, no? Tuttavia anche questa, bella perché bella, ma non so, non mi ha anche qui stupito. Una composizione un po' banale, manca di evoluzione. Delle 3 di queste di cui vi ho parlato, che sono tutte e 3 abbastanza sul muschio bianco, sensazione di pulito e quant'altro, questo è un buon blind buy per chi ama quel tipo di fragranze che sanno di pulito. Delle 3 questa è la più interessante. Anno 2020, durata 7-8 ore, ho notato che dura un po' di più delle altre due precedenti. Siage discreto, proiezione circa 2 metri, genere unisex, primavera, estate, autunno. Creatività qua gli ho dato un bellotto, perché comunque è un bellissimo concept, realizzato non magnificamente dal mio punto di vista, però l'idea è bella. Il carattere qui è un carattere molto evocativo e molto pulito. Numero 9, Rose America, la rosa dell'America. Una rosa piccante, speziata, particolare. È una numero 9, però secondo me questo, per chi ama proprio tanto la nota di rosa, potrebbe essere un numero 1, anche tranquillamente. Note di brezza marina, note di rosa bulgara, assoluta di rosa bulgara, eliotropio e semi di ambretta. La nota di rosa qui è piccante e sufficientemente sensuale, tuttavia trovo poco contrasto ancora con le note di base. Mi sembra sempre una composizione abbastanza monotona e con poche variazioni. Sa un po' di decadente, di antica villa polverosa infestata di fantasmi. Tuttavia è troppo dolce, la trovo troppo dolce e può quasi disgustare, quindi non consiglio il blind buy. Naso, qui abbiamo il naso, lo sappiamo, Annick Menardot. Anno 2017, durata 7-8 ore, un siage abbastanza intenso, proiezione 2-3 metri, è più femminile. Autunno, primavera, estate, il periodo. Creatività gli ho dato un bel 7 su 10, se li merita tutti. È un carattere un po' d'altri tempi, dolcemente strano, piccante. Blind buy? Ni? Ci potrebbe stare, ma anche no, dipende un po' dal vostro coraggio. Numero 8, Fleur de Fleur. Ça va sans dire? Che questo è un bel fiorito. BAM! Proprio, uno di quei fioriti esplosivi. Un fuoco d'artificio floreale che veramente vi sconvolge le prospettive. Un bouquet esplosivo di note floreali. Apertura dolciastra e profonda. Rotonda, ma per me troppo, troppo impattante. Mi dà quasi, quasi fastidio. Anche sulla pelle ho visto... mi genera un po' una sensazione di attrazione e repulsione, ma soprattutto repulsione. È una tuberosa, molto, molto schietta, decisamente anni Ottanta. L'ispirazione qui è appunto comunque una notte a Bali, quindi una notte in un'isola orientale, con quest'aria che si impregna di langhi-lang, di gelsomino, di zafferano, di bergamotto, benzoino, vaniglia, legno di sandalo, ambra e anche un pizzico di oud. È particolare, però per me è un po' troppo, 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 troppo... un po' troppo esagerato, un po' troppo urlato. Naso Karin Chevalier, anno 2015, durata un bel 8-10 ore, probabilmente per il mix tuberosa-oud, che gli danno comunque un bel corpone olfattivo. Siage molto intenso, una proiezione devastante, anche... questo anche a 5 metri, cioè... sentite che proprio picchia, picchia veramente tanto. La molecola qua sviaggia nell'aria dopatissima, sembra un profumo dopato, cioè... è un doping. È più femminile, periodo primavera estate, creatività un 7 su 10, perché comunque che se ne dica, che ci abbiano messo delle note un po' particolari, che il concetto sia questa notte a Bali... non lo so, l'ho trovato sempre un po' già sentito. Un carattere molto dolce e fiorito quasi troppo per me. Blind By? Ni, anche qui, perché comunque per chi ama proprio queste note fioritone, aperte proprio, queste note che si espandono nell'aria, per voi secondo me ci potrebbe stare come Blind By, quindi Blind By Ni. Da qui in poi, dalla 7 in poi, per me è stato difficilissimo metterli in fila perché sono un po' tutti dei numeri 1, un po' come per la serie di Oman Luxury, il video di Mon Luxury, ve lo linko comunque qua. Da qui in poi è un altro livello. Numero 7, Click Song. Guardate che bello. Click Song, come vedete, nella raffigurazione c'è questa cantante in un locale serale, molto dreamy, molto sognante. Ed è un profumo, me lo sono scritto, ve lo leggo, profumo dedicato a Miriam Makeba, che venne esiliata a causa della sua forte lotta contro l'apartheid. È dunque un profumo dedicato alla potenza femminile. L'apertura è ipercorroborante. Vi fa proprio stare bene. È un ambrato floreale speziato caldo. È probabilmente il migliore, quello più riuscito a livello di equilibrio di note. Apprezzo molto il legame fra vaniglie e paciuli, che crea un non so che di pastoso ai limiti del gourmand. Chiudendo gli occhi potrebbe sembrare di avere sotto al naso una pasta sfoglia calda ripiena di fresca crema pasticcera, mangiata magari in un giardino rigoglioso, dove le note dei fiori si mescono a quelle del dolce che avete sotto al naso. Il fondo è bellissimo, di labdano, o labdano dipende di punti di vista, e benzoino. Note che giocano a promuovere delle nuance, delle sfumature mistiche e molto riflessive. Il naso è di Serge de Oliveira. Anno 2022, durata 8-10 ore, un bel sillage intenso, una proiezione di 3 metri, unisex pienissimo, autunno-inverno-primavera, ve lo suggerisco come stagioni, una creatività di 8 su 10 senza dubbio, se li merita tutti. Il carattere è delicatamente potente, attillato ma libero, casual ma elegante, una di quelle fragranze fatte di contrasti, ricche di evoluzione. Blind by, assolutamente sì. Number 6, Memory Motel. Questo sempre tratto dalla collezione Una notte a Montauk. Tac. Wow, wow. Cioè qua è proprio un altro livello, secondo me, rispetto alle prime è un altro livello. Rispetto alle prime 5 è un altro livello. Mi sa, deliberatamente, qui mi denudo per voi, per me questa mi sa proprio di spa di stralusso. La sensazione di entrare in una bellissima spa. So che non c'entra nulla con questo concetto pop rock che gli è stato dato, però io vi dico anche quelle che sono un po' le mie sensazioni. Probabilmente deriva un po' dal legame tra questa penisola un po' strana, accogliente, no? Perché è una penisola per pochi questa di Montauk. È un luogo per pochi, quindi anche le spa in un certo senso hanno questo livello, no? Di silenzio. Io non sono mai stato a Montauk, però ho visto un po' di foto e immagino che lì ci sia un certo livello di silenzio. Ecco, secondo me il legame è quello. Un luogo dove stare bene, sentirsi bene, in pace con se stessi, senza problemi per la testa. In quelle giornate particolarmente stressanti, dove c'è sempre una cosa da ricercare, una soluzione da trovare, un problema sempre nuovo che nasce, perché come sappiamo le nostre vite nel 2022, ovunque, in tutto il mondo sono sempre piene di tanta attività, troppa attività, questo è un'isola di pace. Un motel immaginario dove andare e perdervi dentro voi stessi. È una coccola per la mente e per il corpo. Narra appunto dell'incantesimo che ha avuto Andy Warhol quando scoprì la penisola di Montauk, affittò la sua tenuta ai Rolling Stones nel 75 dove loro composero l'album Black & Blue, contenente la traccia appunto Memory Motel. Al di là del lato pop rock, che si trova dietro al concept, io la trovo molto ricca e lussuriosa, assolutamente non mi sa di nomadismo, non mi sa di zaino in spalla. Una ricetta androgina con note di tabacco avvolte da una bellissima foglia di paciuli spolverate da un tocco di maniglia. Iris, incenso, paciuli, tabacco, un mix insolito. Bello, bellissimo. Naso è di Annick Menardot, anno 2017, durata 8-10 ore, siage intenso, proiezione 2-3 metri, unisex. Autunno-inverno, inizio-primavera nel quale vi suggerisco di indossarla. Creatività ha un bel 8.5 su 10. Carattere dolce, rilassante, coccoloso e cosy, come si dice in inglese, cioè appunto molto intimista. Una cosa che proprio vi coccola. Blind by? Assolutamente sì, andate proprio tranquilli, se vi piacciono le note di cui vi ho parlato. Numero 5, Sumo Oriental. Questo ragazzi è una roba pazzesca, questa è una roba veramente allucinante. Io quando ogni volta che lo sento, dico ma perché non è il numero 1 questo? Perché non l'ho messo al numero 1. Perché il numero 1 forse è meglio per me. Sì, è molto meglio, però, signore e signori, questo è un numero 1. Bellissimo. Un paciuli addolcito dalla fava tonca e reso interessante da un'apertura busi con un bel rum molto realistico. Sento forse qualche stonatura qua e là con il cipriol e il cashmeran, che a mio avviso lo rendono forse un poco un poco retro. Rispetto appunto al taglio d'avanguardia che il brand sia in un certo senso imposto di dare alle sue creazioni. È sempre relativo alla collezione Una Notte a Bali ed evoca effettivamente una notte balinese. Ci può stare molto calmo, molto placido. L'uso di questo legno di sandalo, tipicamente orientale, rotondo e persistente ne dà proprio una firma appunto balinese di isola orientale. Quindi ci sta insomma come concetto. È del 2015, 8 ore la durata, un siage intenso, proiezione 2 metri. Genere unisex, periodo secondo me è un autunno-inverno, creatività 8.5, carattere evocativo, avvolgente sensuale. Blind by anche qui assolutamente sì. Cioè, se vi piace, la nota di paciuli, la nota di legno di sandalo, il rum, legno di guaiaco, il fava tonca, ecco. Provate un po' a immaginarvela. È proprio su quell'immaginazione lì. È proprio sull'unione di queste note che si sposano molto molto bene insieme. Per gli amanti del vetivè, qua abbiamo Mr. Vetivè, il signor Vetivè, ispirata sempre a una notte a Bali. In realtà è a Java, questo. Comunque sia, parlano di un uomo che aveva questo profumo al vetivè e che veniva ribattezzato il signor Vetivè, appunto, perché nessuno sapeva il suo nome, ma sapevano che aveva questo profumo, appunto, che lo faceva riconoscere anche a metri di distanza. Mamma mia, mamma mia, che bello, raga. Bello, bello, bello tanto, bello tanto. Bello tanto perché è un'interpretazione nuovissima del vetivè. L'apertura è strana perché mi ricorda quasi le note di chinotto, proprio la bevanda. Immaginate questo profumo un po' amarognolo e frizzantino, un po' sotto al naso. Ecco, questa è proprio l'apertura. Un bel chinotto, bello scuro, un po' agrumato, piacevolmente amarognolo e succoso allo stesso tempo. Una composizione mediterranea e verde grazie alla freschezza nutriente e rinvigorente del basilico. Dopo questa apertura insolita, poco dopo, vira in una mascolinità virile decisa di vetivè. Però è un vetivè giovane, non sa di vecchia colonia. È un vetivè d'avanguardia. Molto bella anche la nota di piripiri nel sottofondo che chi dice, ma che c'è il piripiri? Piripiri sono tipo dei peperoni, dei peperoncini, diciamo, è una nota un po' piccante. È un frutto orientale, quindi ci sta come concetto. Le dà proprio un carattere nuovo, dall'inizio alla fine. Non è gourmand, però, 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 dà veramente un po' di acquolina, ve la dà. Vi dà un po' di acquolina in bocca. Ipersensuale, quindi una composizione raffinata e molto, molto cangiante. Un vetivè che si rivela nel delicato e speziato accordo di cardamomo in apertura. Anno 2014, durata 8-10 ore, un bel sillaggio intenso, 2-3 metri di proiezione, un genere unisex, attenzione, non perché ci sia il vetivè deve essere per forza una roba maschile, è un unisex, più maschile, però comunque un unisex. Uniseason, questo lo usate quando volete voi, in qualsiasi stagione, ma anche, direi, uni outfit. È veramente, va dal casual all'elegante. Creatività, io qua gli ho dato un bel 9 su 10, veramente mi si è aperta la consapevolezza di qualcosa di nuovo, mi ha aperto la consapevolezza di qualcosa di nuovo questo profumo, quindi lo ringrazio, ringrazio Mr. BTV. È raffinato, all'avanguardia, avventuroso e dinamico. Blind by? Assolutamente sì. Andiamo adesso al podio, siamo alla numero 3, numero 3, ritorniamo in Oman, ritorniamo al souk di Muttra con Ambre Kanjar. Il Kanjar, come sapete, come sappiamo ormai, è questo pugnale che si vede qui, che è il pugnale appunto tipico, tradizionale, umanità. Ambre, vabbè, è l'ambra, insomma, quindi è un ambrato orientale speziato. Pazzesco! Ciao proprio. Ma che bello, raga, che bello. Per chi ama gli ambrati, questo è un blind by che ci andate proprio tranquillissime, tranquillissimi. Qui è un equilibrio ai massimi e livelli, è una vera sinfonia di odori. Qui siamo oltre il profumo, qua c'è proprio una tridimensionalità reale, un luogo fatto di prospettive, di proiezioni, una realtà parallela, un ambrato, legnoso, vanigliato, fruttato di altissimo livello. A mio avviso questo vale molto, molto di più del suo prezzo di vendita. È sia sporco che pulito, è sia ruvido che morbido. Le note fruttate di prugna in apertura richiamano quasi una torta da mangiare. E quindi questo diventa veramente altamente addictive. Cioè ve lo spruzzate e poi c'è il rischio che state tutto il giorno col naso dove ve lo siete spruzzato. L'ho indossato tre volte per testarlo e uscendo di casa ho ricevuto complimenti da persone sconosciute che mi chiedevano che profumo avessi. Nella piramide c'è appunto il mandarino, il cisto, l'abdano, la vaniglia, ilang-ilang, legno di sandalo, paciuli, resina di benzoino e varie altre note. Io ci avverto anche del tabacco, anche se non è esplicitato in piramide. Naso di Jérôme Marino, anno 2019, durata 8-12 ore, un sillage molto intenso, 2-3 metri, la proiezione. Genere per me questo è un unisex, autunno-inverno, creatività 9 su 10, carattere caldo, sensuale, potente, poetico, ma anche un pizzico autoritario. Blind by assolutamente sì. Adesso andiamo ai primi due che ho proprio qui in confezione da 100 ml. Ringrazio poi i nomadi che mi hanno mandato questi prodotti. Prima però voglio farvi vedere proprio il decantino che mi ha fatto anche innamorare un po' del numero 2, che è appunto Murmur de Dieu. Questo è il numero 2, il mormorio degli dèi. Guardate che abbiamo qua Lord Ganesh, appunto nella cultura indovedica, è un po' colui che rimuove gli ostacoli, figlio di Shiva e Parvati. Murmur de Dieu, guardate che cura del dettaglio della grafica, del feel proprio, della texture, della carta, la qualità della carta, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo questo mappamondo stampato sopra, il logo Inuinomad, un po' a rilievo, delicatamente a rilievo. Bello, bello, senza dubbio. Apriamo e abbiamo la boccia che è questa qua, guardate che bella. È proprio così come il marchio è, cioè semplice, semplice ma che dice già tanto. Guardate già che bel colore ha la fragranza all'interno. Il tappo è a calamita, quindi, insomma, interessante. A me, io adoro i tappi a calamita. Comunque ecco, è così, è molto molto semplice. Semplice comunque d'effetto, elegante, sobria, di altissima classe. Cioè se la regalate a qualcuno ci fate veramente una gran gran figura. Murmur de Dieu fa parte della collezione Una Notte a Bali. Facciamo sulla pelle così. Diffusore di alta qualità. Atomizzatore, appunto, che atomizza bene. Murmur de Dieu è chassosamente silenzioso. Questo è quello che per me è. Non vorrei aggiungere altro. Immensa armonia. Si percepisce una immensa armonia. Un'apertura che dice tantissimo, ma non dice tutto. Un profumo esoterico che nasconde segreti di infinita bellezza ed impossibili da decifrare. È un floreale ambrato tropicale vanigliato. È una libera passeggiata realistica in un'isola tropicale. Quando l'aria si impregna del profumo del frangipane e dell'ilang-ilang. Mi è piaciuto tantissimo. Sarà sicuramente la mia signature primaverile. Anche nel freddo dell'inverno, qualche spruzzata mi darà senz'altro l'illusione di avere una piacevole spiaggia tropicale proprio dentro casa. Il tutto, naturalmente, a portata di boccetta. Dolcemente zuccheroso. Vi sorride che vi fa sorridere. Come vibe, anche se non c'entra nulla come note, eh. Ci tengo a dirlo. Ma come vibe mi richiamo un po' Sintra di Memo Paris. Cioè, è uno di quei profumi che vi mette veramente tanto di buon umore. Genera senza dubbio un'aura molto positiva attorno a voi. Ed è uno di quelle fragranze magiche che vi permette di realizzare i vostri sogni, di attirare cose positive a voi, di attirare abbondanza. Good vibes, good vibes. Come note, appunto, c'è un'apertura di bergamotto e ilang-ilang. Un'assoluta di frangipane, come note di cuore. Benzoino, il cisto, l'abdano, vaniglia e vari muschi. Il naso è di Natalie Face Tower. Del 2016 è l'anno di creazione. Si age intenso, proiezione 2-3 metri. Autunno, primavera, estate. Io qua gli ho dato proprio un 9.5 su 10 di creatività, perché se li merita tutti. È un carattere zuccheroso, tropicale, spensierato, positivizzante ed energizzante. Blind by? Assolutamente sì. Ne ho già parlato nel video degli 8 migliori profumi autunnali di nicchia e per pochi ed è lui Jardin de Misfa. I giardini di Misfa. Faccio vedere un po' la scatola, guardate che bella che è. È uguale all'altra sostanzialmente, però con questo colore un po' verde militare, un po'. Sì, dai, anche omanita ci stanno. Eccolo qua, guardate che bel colore ambrato c'è qua dentro. Sembra oro liquido, letteralmente. E io vi giuro che ogni volta che lo spruzzo, io c'ho paura, perché c'ho paura di prendermi a morsi il braccio con sta meraviglia qua. Andiamo, me lo spruzzo qui. Mi fa impazzire questo. Ma che buono. La paura è anche quella di attirare troppi complimenti, ve lo dico. Questo è uno di quei profumi veramente polarizzanti. Ve lo mettete e vi arrivano complimenti a destra, ma anche tutti che vi chiedono ma cos'è, ma cos'è, ma dov'è, dove l'hai preso, come si chiama, da dove arriva, da che pianeta arriva. Io vi dico, arriva dal pianeta Terra e il marchio è Inuinomad. Per me, Savasandir, questo è il capolavoro di tutta la linea Inuinomad. E trae ispirazione dai giardini di Nisfa, che è una sorta di oasi nell'entroterra omanita, dove l'aria del deserto si unisce alla brezza dell'oceano indiano, che è poco distante. E si crea sostanzialmente questo prato etereo, dove i profumi della vegetazione circostante trovano modo di fiorire ed esprimersi ed espandersi appunto in questo tappeto ozonico. Come detto anche prima, per l'altra fragranza che abbiamo sentito prima, Ambre Cangiar, sono più o meno sulla stessa linea. Questo è un po' più speziato, questo un po' più gourmand. Sfiora il gourmand, ma non è un gourmand. Un fruttato dolce speziato caldo. Io ho proprio detto questo è l'autunnale, cioè se ci deve essere un profumo adatto, precisamente adatto per l'autunno, questo è il profumo che io personalmente indosserei. La nota di dattero e la nota di noce moscata sono le stelle, i protagonisti di questa ricetta. volti da un cardamomo rinfrescante e da una nota di mandorla dolce che va un po' a levigare, a fare un po' proprio da amalgama a tutte queste note. È così intenso e dolce che potrebbe erroneamente dare idea di qualcosa di ambrato. Però è un'intensità seria, non è un'intensità frivola, dedicato senza dubbio a un pubblico che sa essere chic, malgrado appunto questo concept nomade di nomadismo, ma io credo che loro volessero creare un qualcosa che sia mentale, cioè un nomadismo mentale, un'elasticità mentale. Questo credo che sia un po' il segreto del brand. Se ci fosse un nuovo dilumo universale e mi chiedessero di portare cinque profumi sull'arca di Noè o sull'arca di Nasodani, se dovessi mai costruire un'arca, questo sarebbe il profumo che andrei a portare con me. Già indossato varie volte, numerose volte, ho ricevuto già più di un complimento ogni volta che lo indossavo e soprattutto anche qui mi chiedevano ma che odore è? Che odore particolare? Che buon odore? Che buon profumo? Perché dà più idea di odore, non dà idea di fragranza. Questo è il bello, io lo trovo un gran complimento perché è un qualcosa che va oltre il cosmetico, va oltre qualcosa che vi mettete, è qualcosa che diventa parte di voi, della vostra aura. Bellissima la nota di zafferano, alla base della fragranza che però percorre tutta l'evoluzione, già dall'apertura si sente la nota di zafferano. Spezia poi anche qui tipicamente anche omanita. Mi ricorda un po' Paramour di Home Luxury, vedete qua la recensione, che è un altro profumo appunto che è stato dedicato a un dolce tipico omanita. Che altro vi devo dire? Questo è il mio numero uno, quindi io lo adoro, lo amo, ha un'evoluzione appunto pazzesca, super anche speziato, intrigante, misterioso. E Blind By questo assolutamente sì, cioè ci dovete andare proprio, vi ci dovete tuffare se vi piacciono queste note. Il naso è di Jerome Di Marino, anno 2019, durata è un 8-12 ore, un sillage intenso, una proiezione di 2-3 metri, è un unisex totale, un uniseason totale, anche se d'estate forse nelle sere troppo calde non me lo vedo. Creatività 9.5 su 10, caro Giardin de Misfa, te li meriti tutti. Il carattere è proprio appagante, fulfilling, intenso, trasportante, poetico, sognante, sensuale. Insomma, cos'altro volete da una fragranza? Non c'è altro da poter volere. Oltretutto anche le prestazioni qui sono ad un certo livello e quindi il Brain By io qui proprio assolutamente sì, cioè questi due assolutamente sì. Vi metto sotto il link appunto affiliato, mi raccomando, ecco, se dovete acquistare fatelo da lì. Bene, ce l'ho fatta, era da un po' che volevo farlo questo video qui, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando mettete like perché se vi è piaciuto così almeno so che devo fare altri video di questo tipo. Noi ci rivediamo presto al prossimo video, state incollati al canale perché arriveranno presto delle profumosissime novità e con Naso Dani non sbagli mai. Ciao!